Musica Ben ritrovati, nuovo appuntamento con il TV giornale di Telestense, TV giornale che purtroppo apriremo tra pochissimo con una notizia di cronaca, ha perso la vita una ventenne nel Centese, ovviamente molto spazio anche al maltempo che ha colpito buona parte della nostra regione, ma soprattutto il ferrerese con numerosi allagamenti e poi parleremo anche di Bruce Springsteen, ovviamente problemi legati al maltempo anche per il concerto della prossima settimana, ma in particolare oggi il sindaco Alan Fabri ha scritto una lettera ai residenti delle zone prossime al concerto per anticipare quelle che saranno le chiusure della prossima settimana. Parleremo anche dell'inaugurazione del nuovo salone del restauro e poi notizie riguardanti la spalla. Ma cominciamo subito dall'incidente mortale avvenuto nel pomeriggio di giovedì attorno alle 15 sulla via Modena, esattamente a Renazzo nel Centese, a perdere la vita una giovane ventenne che si trovava su un'auto coinvolta il cui conducente è stato trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna. Ferite più lievi per il conducente dell'altra auto coinvolta, portato in questo caso in ospedale a Cento e si parla dunque di uno scontro frontale tra i due mezzi sulla cui dinamica sta indagando la Polizia Municipale. Intervenuti oltre ai soccorritori del 118 anche i vigili del fuoco. E parliamo dunque del maltempo che sta continuando a colpire l'Emilia-Romagna e non solo l'Emilia-Romagna. La pioggia copiosa continua di queste ore ha provocato in particolare allagamenti e disagi a Ferrara e Provincia, in diversi comuni. In dieci giorni in particolare è caduto un terzo del quantitativo anno di piogge. Vediamo i dettagli nel servizio. Resta l'allerta meteo in Emilia-Romagna ma non sarà più rossa, riferiscono dalla protezione civile. Calano infatti le piene dei fiumi ma la situazione rimane sotto osservazione. I comuni ferraresi dalla città fino ai comuni del territorio hanno attivato il coordinamento della protezione civile, attive diverse squadre su tutto il territorio, tanti gli allagamenti di strade, garage e scantinati. Alcune arterie come un tratto della via Copparo è stato chiuso temporaneamente alla circolazione per permettere il defluire dell'acqua risalita dai canali pieni fino a livello strada. Motopompe in azione come al parco urbano per liberare dall'acqua l'area dove si terrà fra una settimana il concerto di Bruce Springsteen. Superstrada difficilmente percorribile in questi giorni con i problemi di sicurezza segnalati all'ANAS dalla provincia che intanto ha annunciato di aver riparato buche per la messa in sicurezza attraverso l'intervento di otto squadre di cantonieri sull'intera rete stradale provinciale. Nel frattempo migliaia di metri quadrati di campagne risultano allagate, tutte le squadre del consorzio di bonifica pianura di Ferrara sono operative 24 ore su 24 per fronteggiare la situazione, dicono dall'ente. Non solo gravi danni come rileva Coldiretti, le precipitazioni nel mese di maggio aiutano a combattere la pesante siccità con il livello del fiume Po che è salito di un metro e mezzo rispetto allo scorso mese ed è tornato sui livelli medi del periodo. Intanto il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha incontrato giovedì a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per fare il punto della situazione in Emilia Romagna, consegnata alla Premier una relazione sugli eventi calamitosi che hanno colpito la regione dal 1 al 3 maggio, circa un miliardo di euro, la prima stima dei danni. Servono ulteriori risorse finanziarie per affrontare le criticità aperte. Ha poi aggiunto Bonaccini. Intanto riguardo alla superstrada, le cui condizioni di sicurezza sono peggiorate negli ultimi giorni e soprattutto nelle ultime ore a causa del maltempo, è arrivato un annuncio del deputato ferrarese della Lega Davide Bergamini. In arrivo 4,4 milioni di euro per la Ferrara Mare, risorse per affronteggiare l'emergenza, appunto, è quanto ha dichiarato l'onorevole ferrarese. Intanto parliamo anche di un tema completamente diverso, ma ovviamente il maltempo mette in difficoltà anche quello che è l'imminente con il concerto di Bruce Springsteen. Il sindaco Alan Fabri intanto ha scritto una lettera ai residenti delle zone interessate alle limitazioni del traffico veicolare e intanto anche i Lidi si festeggerà l'arrivo del boss. Ma sentiamo i particolari di questa lettera. Per la prima volta Bruce Springsteen si esibirà il 18 maggio presso il Parco Bassani, un evento unico che permetterà di far conoscere al mondo la nostra meravigliosa Ferrara che accoglierà al meglio gli spettatori, offrendo loro la consueta accoglienza che ci caratterizza. Sono queste le parole con cui Alan Fabri, sindaco di Ferrara, si rivolge ai residenti delle zone interessate dal concerto in programma la prossima settimana con una lettera inviata in queste ore. Un evento che comporterà modifiche e restrizioni alla viabilità urbana dalla mezzanotte a cavallo tra il 17 e il 18 maggio fino alle 3 di notte del 19 maggio per un totale di 27 ore. Le aree della città saranno divise in zona rossa, zona arancione e zona gialla. La rossa, quella più prossima all'evento, vedrà interdetta l'intera viabilità con possibilità di transito esclusivamente pedonale. Le strade coinvolte saranno via Porta Catena, via Canapa, via Bacchelli, via Gramicia, via Fratelli Rosselli, via Orlando Furioso, oltre alla totale inibizione di persone nelle mura cittadine e nel sottomura tra via Tumiati e via Gramicia. Limitazioni si osserveranno a cascata anche nelle zone circostanti, con la chiusura alla circolazione veicolare di Viale Costituzione, Piazzale della Stazione e via San Giacomo per consentire l'arrivo degli spettatori. Il sindaco Fabri confida nella collaborazione dei residenti della zona e invita ad osservare con particolare scrupolo la segnaletica stradale temporanea. Intanto anche i Lidi prende il via un omaggio al BOS con Delta Rock Week 2023, una serie di eventi in programma in questo e nel prossimo fine settimana. Un progetto sostenuto da Ascom Conf Commercio, Associazione Balneari, cooperative esercenti stabilimenti balneari, la Civica Scuola Musica di Comacchio, Comacchio Musica di Lido degli Estensi, la Starman di Franco Casoni che si è occupata della direzione artistica e organizzativa ed il patrocinio del Comune di Comacchio. L'esordio degli eventi ad ingresso gratuito avverrà venerdì 12 alle 15 con Comacchio in Brindisi per il Cocktail Bruce presso il Bagno Pomposa a Lido di Pomposa. Un evento con barman di caratura internazionale pronti ad omaggiare con le loro creazioni il concerto del BOS. Le iniziative proseguiranno fino a domenica 21 maggio. E vi ricordo che nella data di questo venerdì 12 di maggio ci sarà una conferenza stampa che darà ulteriori informazioni sul concerto di Bruce Prins. Ovviamente ne parleremo nelle prossime edizioni del TV Giornale e su telestense.it. Adesso invece parliamo di un'altra iniziativa, al Via Sabato la prima festa provinciale dell'autotrasporto a Copparo, una giornata densa di iniziative per lanciare messaggi ben precisi e far scoprire le opportunità di un settore molto importante. Giovedì si è tenuta la conferenza stampa in municipio a Copparo. Vediamo i particolari nel servizio. Noi vogliamo lanciare un messaggio per il momento un po' particolare che ci troviamo con la carenza di autisti, con un mestiere in difficoltà nel senso che concorrenze sempre sleali nei nostri confronti. Abbiamo il problema del cambio generazionale che non è facile portarlo avanti. Siamo ovviamente contentissimi di poter tenere a battesimo la festa provinciale dell'autotrasporto grazie agli amici di CNA sul nostro territorio, un po' perché è una prima ma un po' e anche soprattutto perché sarà l'occasione giusta per fare un po' il punto della situazione in un settore come quello dell'autotrasporto che è sempre stato storicamente molto importante anche per il nostro territorio e che tuttora si candida a essere altrettanto importante in una fase di ripresa legata al post-pandemia. Per cui ogni tanto c'è bisogno di guardarsi in faccia con gli operatori del settore, fare il punto della situazione e guardare le possibili prospettive di sviluppo per il prossimo futuro. Senza l'autotrasporto non si va da nessuna parte perché noi abbiamo avuto la forza di portare avanti si può dire l'Italia nel momento della pandemia. Fare il mestiere dell'autotrasporto potrebbe essere un'occasione per tanti giovani che prima vogliono essere liberi. Uno stipendio che penso che non abbia paragoni con gli stipendi normali. Io spero che i giovani si avvicinino. Un'occasione per far vedere ai giovani in cosa consiste questa attività, questo lavoro. Un paese come Copparo che per vocazione ha la necessità di avere aziende che fanno autotrasporto e autotrasportori per cui l'abbiamo abbinato anche al metodo, all'approccio di organizzarlo in modo che sia anche una festa per far vedere la parte allegra, la parte più bella, la parte più umana di questo lavoro per far vedere ai giovani che è una tipologia di attività che può essere anche molto interessante e di cui il nostro territorio ha assolutamente bisogno. L'esigenza è di farci vedere sul territorio e di far capire quello che facciamo tutti i giorni, di essere interlocutori e ascoltiamo le persone su quello che fanno. Da qui nasce l'idea della prima festa provinciale dell'autotrasporto. Si articola su due momenti principali, quello della mattina in cui ci sarà un convegno dove alla presenza delle autorità politiche e istituzionali della CNA tratteremo il tema del ricambio generazionale e di come il mestiere dell'autotrasporto sia cambiato nel tempo. In piazza troveremo l'esposizione sia di mezzi storici che di mezzi moderni. Inoltre avremo una mostra fotografica che è un po' la memoria degli ultimi 50 anni, quindi dal secondo dopoguerra in avanti. Nel pomeriggio invece avremo, sempre partendo dalla piazza, la piazza del popolo, la benedizione e la sfilata dei trattori stradali sfileranno per le frazioni di Copparo. A rientro da questa sfilata avremo un bellissimo apericena. E adesso invece cambiamo argomento. È stato inaugurato all'ospedale di Cona un distributore automatico di giornali e riviste collocato negli spazi comuni dell'area commerciale del Nosocomio, al piano rialzato, sullo stesso corridoio del bar. Si tratta di uno dei progetti che l'azienda Sant'Anna sta portando avanti in ottica di accoglienza e che dopo il Covid potranno riprendere più compiutamente. Al momento inaugurativo hanno partecipato la direttrice generale delle aziende sanitarie ferreresi, c'è la dottoressa Monica Calamai, e il presidente nazionale di FIEG, Federazione Italiana Editori Giornali, Andrea Monti. Adesso invece ci spostiamo in città, torniamo appunto nella nostra città per parlare appunto di un tema che si chiama proprio così, di chi è la città, che ha avuto inizio da questa domanda l'incontro conclusosi mercoledì pomeriggio a Factory Grisù, ciclo di conferenze promosso dal Dipartimento di Architettura dell'Università di Ferrara per approfondire le iniziative di mobilitazione civica con cui il forum Ferrara partecipata si è opposto al progetto di rigenerazione urbana del Comune di Ferrara, Ferris. Tema dell'incontro di mercoledì, processi partecipativi, e quindi sentiamo due riflessioni in merito dei due relatori, ovvero l'urbanista Carlo Cellamare dell'Università della Sapienza e il sociologo Alfredo Aglietti di Unifè. Lei si è occupato moltissimo di progettazione urbanistica insieme a mobilitazione di cittadini, in un caso anche per una periferia molto degradata romana come Torbella Monaca. Qual è la sua valutazione dei processi di partecipazione democratica, dal basso, civica, nelle rigenerazioni urbane? La partecipazione è una parola molto nobile, ma anche molto pericolosa, rischiosa. Non sempre è fatta con lo spirito giusto, molto spesso è una partecipazione che viene un po' calata dall'alto, un po' top down, oppure che segue procedure di carattere amministrativo. Mentre nel momento in cui vogliamo veramente una partecipazione democratica bisogna lasciare molto più spazio a quelle che sono le iniziative, le progettualità che emergono dai territori, da parte della popolazione impegnata. E quindi bisogna aprire gli spazi adeguati perché ci possa essere una reale partecipazione da parte dei cittadini e dall'altra parte bisogna anche che i cittadini siano ben organizzati fra di loro. La partecipazione dal basso è un segno di un nuovo modo di interpretare l'interesse per la politica in un paese che ha così problemi con la rappresentanza politica che anche secondo l'Istat ha un interesse calante nei confronti del dibattito pubblico. Certo, assolutamente la mobilitazione del basso per i problemi che riguardano la collettività è un modo di fare politica interessante che però allo stesso momento richiama la politica tradizionale da assumersi delle responsabilità. Dunque è vero quello che lei dice e sostiene che è un modo di riappropriarsi del proprio destino, della propria vita, di indirizzare la propria vita attraverso la partecipazione ma è anche un monito alla politica tradizionale di stare ad ascoltare e di agire in conseguenza di queste richieste, di questa partecipazione dal basso. Ci sono, come dire, delle competenze che devono essere messe in atto da entrambe le parti? Certo, assolutamente, perché la partecipazione dal basso significa riapprendere la democrazia, le pratiche cooperative, lo stare ad ascoltarsi, il creare e organizzare eventi che in qualche modo sottolineano perché ci si mobilita. Dunque già questo, come dire, è un riapprendere o apprendere in maniera inedita forme di cittadinanza e di partecipazione. Dall'altro le stesse istituzioni, le amministrazioni locali sono chiamate a mutare, a cambiare, cioè a trovare all'interno di sé quell'intelligenza istituzionale che gli permette di aprire spazi di confronto e di dialogo e che questo diventi una prassi amministrativa e politica utile poi per risolvere i problemi dei cittadini. Altra notizia di queste ultime ore riguarda l'inaugurazione della 28esima edizione del Salone del Restauro alla presenza delle autorità locali, nazionali e internazionali. Tanti gli appuntamenti in programma nella giornata di apertura che presugheranno anche venerdì, ma torneremo con ulteriori dettagli nelle prossime edizioni. E prendere via anche la 28esima edizione della Sagra della Fragola a Lago Santo, appuntamento che vede tradizione e innovazione gastronomica di cui ci hanno parlato nell'ultima puntata di Detto Tra Noi, la presidente della Proloco Lago Santo, Doriana Doria, e la nutrizionista, Anna Leone. Ne vediamo un'antiprima. La Sagra della Fragola nasce, appunto, diciamo 30 anni fa, perché è la 28esima edizione, ma sarebbe stata la 30esima, perché per via delle due edizioni in del Covid. Quindi nasce, appunto, come dicevo, 30 anni fa, da un'idea, appunto, di quell'amministrazione di quell'epoca, e di Sagra ce n'erano molto poche nel nostro territorio. E siccome nel nostro territorio abbiamo questa azienda, l'azienda Salvi, che produce la piantina e i trapianti per la fragola, perché il nostro terreno è sabbioso, e quindi si adatta perfettamente a creare delle radici che quando tiri sulla piantina, le radici, diciamo, vanno su in fondo e non si spezzano, eccetera. E questa piantina, poi, da allora è stata, diciamo così, esportata in tutto il mondo, e anche in tutta Italia, dove ci sono dei terreni che regalano a questo frutto, diciamo, sapori diversi. Quindi l'azienda che ci fornisce le fragole a noi è poi a Cesena, che è un'azienda di Salvi. Che tipo di frutto è e a chi può essere consigliato? Allora, la frutta piace a tutti. Questo è un caposaldo. In ambulatorio, da me, i pazienti rinunciano quasi a tutto, ma non alla frutta, che è una buonissima cosa. Certo. Però ricordiamoci che comunque la frutta contiene zuccheri. Quindi, ad esempio, parliamo anche di chi ha diabete e ovviamente non ne può consumare in larga quantità. La fragola, però, è uno dei frutti che ha meno zuccheri. Quindi siamo circa sulle 12-13 calorie a 100 grammi, con 4,6-4,8 grammi di zuccheri. Per farvi un paragone, la mela ne ha 8-9 di zuccheri, quindi il doppio. La banana non ne parliamo, ne ha 16, quindi quattro volte tanto. Vi ricordo che l'appuntamento va in onda il giovedì sera su Telestense e il venerdì su Telesanterna. Adesso invece cambiamo argomento. È data in scena alle 12.30 presso il Teatro Barattoni, lo spettacolo teatrale L'Ultimo Colpo, ideato, scritto e interpretato dagli studenti e dalle studentesse delle classi seconda AO e terza BO dell'Istituto Agraio al fratello di Navarra di Ostellato. Il tutto con la partecipazione del professor Stefano Pederzani e della professoressa Cecilia Pancaldi con la regia di Massimiliano Piva. Lo spettacolo è il punto di arrivo di un'attività laboratoriale svolta durante l'anno scolastico. E parliamo anche di sport, di spalle in particolare, perché ha parlato il difensore Warnier, trasformeremo il nostro nervosismo in energie per salvarci. Ha detto il difensore che quando scende in campo dimostra per raccontare su qualità anche per una categoria superiore, ma a questo punto ha dovuto confrontarsi con una lunga serie di infortuni. Dicevo, a questo punto lo sentiamo nell'intervista di Alessandro Sovrani. Marco, perché è doveroso ed è giusto credere che questa spalle possa raggiungere almeno la zona play-out? Perché abbiamo i valori per farlo. Secondo me non ci meritiamo quella parte di classifica lì e poi lo dobbiamo farlo in primis per i tifosi, per la città, per la società, per noi stessi. È una partita troppo importante e sappiamo di non poterla sbagliare. In questa settimana è emerso un po' di nervosismo, però pensiamo ci possa stare, vista la delicatezza del momento. Sì, il nervosismo ci può stare in questi momenti, fa parte del calcio. L'importante è incanalare questo nervosismo per la partita di sabato in maniera positiva, quindi portare rabbia in campo e essere determinati, forti nei contrasti, vincere ogni duello. A Palermo pessimo primo tempo, lasciacelo dire, poi la reazione nella ripresa in cui Marco Barriere è risultato l'attaccante più pericoloso. È arrivato anche il tuo primo gol in maglia bianco-azzurra. Sì, diciamo, un sapore un po' amaro, dai, come primo gol. Non è servito molto, però sicuramente, personalmente, mi fa piacere. Non segnavo da una vita, quindi... Proviamo a farlo anche sabato, dai, non sa mai. Magari sotto quella curva che è sempre stata al bosco fianco. Certo, i tifosi sono sempre stati bravissimi con noi e ci hanno sempre sostenuto. Ogni partita, lo stadio, la curva è veramente fantastica e fa sempre impressione vederla quando sei in campo. Quindi ci darà una carica e sarà il nostro dodicesimo uomo in campo. Tornando alla gara di Palermo, sono emersi quei difetti con cui vi siete dovuti confrontare. Avete pagato a caro prezzo nel corso di tutto questo campionato. Qualche amnesia di troppo in fase difensiva e soprattutto dopo il tuo gol, l'incapacità di riuscire a impensire la retroguardia della formazione dei Corini? Sì, sicuramente abbiamo commesso qualche errore a livello personale, tutti. Siamo consapevoli di questo, ma durante la partita cerchiamo sempre di darci una mano l'uno con l'altro e sappiamo di dover essere più compatti in fase difensiva e più incisivo in fase d'attacco. Quindi questo cercheremo di portare sabato. Marco, finalmente fuori dal tunnel per quanto ti riguarda a livello personale? Sì, allora, lo dico ogni volta, però sì, sì, in questo caso sto bene, sto cercando di riprendere condizioni. Alla fine ho fatto una sola partita, quindi ci sta che sia ancora un po' indietro, ma in questi momenti viene altro e si può far bene anche se non sia al 100%. Partita dunque decisiva questo sabato che seguiremo come sempre in diretta con Match. Per quello che riguarda invece le nostre informazioni vi ricordo ulteriori aggiornamenti su telestense.it e sui nostri canali social. Grazie dunque per averci seguito. L'appuntamento come sempre rinnovato alla prossima edizione. Grazie a tutti.